Simone Bondetto, finalmente tu l'ha fatto, questo jersey è tu? Sì, sono molto felice con la rossa, molto felice con la jersey, è stata una rossa difficile. Dopo la rossa iniziativa abbiamo spostato molto forte, Giannis ha fatto un po' molto alto nei primi due lapso. Poi ho cercato di fare un piccolo spazio, ho fatto alcuni secondi e potrei gestire fino alla fine. Ora sei più motivato a portare questo jersey per i prossimi gols della season. Sì, adesso ci sono molti importanti rossi e per sicuramente è una buona motivazione per i prossimi gols. C'è quanto lavoro dietro questa medal? Sì, c'è molto lavoro e sono felice per la squadra e per tutte le persone dietro questa rossa. Grazie! Grazie mille! Grazie mille!